Chiedono un centro con personale specializzato che sia di supporto alle famiglie sia per la diagnosi precoce che per il trattamento intensivo. È la richiesta delle famiglie gialesi che hanno compilato il questionario fornito in città dalle associazioni Oltre il Muro e il labirinto di carta per la conoscenza dei bisogni dei soggetti con autismo. I questionari presentati da Marika Cascino ed Angela Tandurella sono stati compilati in forma anonima da 116 famiglie. Di questi 17 sono risultati non valutabili, 33 compilati da famiglie con figli di sesso femminile e 66 con figli di sesso maschile. Quando il genitore fa una richiesta nei centri pubblici deve aspettare delle lunghe file di attesa. Emerge dei questionari che i genitori che scelgono un trattamento pubblico che non lo intraprendono e la causa è proprio a causa di queste code, di questa attesa. Mentre chi non sceglie il trattamento privato è a causa per una questione economica. Per quanto riguarda invece la scuola, il 60% dichiara di avere delle difficoltà in quello che è l'inserimento scolastico e anche nella gestione del bambino nelle scuole. Mentre il 66% delle famiglie dichiara di non sapere come impegnare il tempo libero del bambino. Quindi cosa far fare ai bambini durante le attività extrascolastiche. Abbiamo lasciato un grande spazio alla prospettiva dei genitori e per cui tanti sono stati suggerimenti portati avanti dal potenziamento di strutture già presenti nel territorio alla garanzia di interventi scientificamente validati basati sull'evidenza, da quali per esempio l'EBA, l'analisi del comportamento applicato o ancora la formazione continua delle insegnanti curriculari e di sostegno o ancora sportelli di ascolto, parent training per le famiglie. E soprattutto un dato molto importante che ci ha un po' toccato è stato proprio il sostegno ai fratelli e dei ragazzi con autismo. I dati emersi sono stati consegnati all'amministrazione comunale. L'assessore Ligia Bela, chiedendo il coinvolgimento di tutte le associazioni, ha annunciato la richiesta nei confronti delle istituzioni regionali e nazionali di maggiori servizi in tema di assistenza, sostegno scolastico ed insedimento occupazionale a Gela. Emergono dei dati che sicuramente vanno confrontati insieme alle altre associazioni che si occupano di autismo all'interno del territorio gelese. E' chiaro che poi ci riproponiamo di oltre confrontarli con loro anche chiamare tutti coloro i quali sono gli attori principali del coinvolgimento delle famiglie che al loro interno hanno ragazzi affetti da autismo e quindi in questo modo cercare di creare un documento che possa essere unico, che possa essere di sollecito sia nei tavoli ministeriali che ovviamente anche in tavoli regionali. Quindi cercare di sollecitare per fare in modo che Gela possa diventare sicuramente un luogo di eccellenza all'interno del territorio nazionale.